benissimo allora siamo qui per la conferenza stampa di preparazione della partita Lazio Sturm Graz iniziamo come al solito con le domande di Lazio Style Channel qui a destra poi passate il microfono con velocità grazie mister buon pomeriggio si replica con lo Sturm che come lei aveva accennato ha mostrato di avere delle qualità cosa ha insegnato la gara di andata ma soprattutto quali insidie oggi presenta questa gara la partita andata ci ha detto dobbiamo fare una partita contro una squadra dei numeri fisici impressionanti in tutte le partite abbiamo fatto quest'anno è l'unica squadra ha fatto meglio di noi dal punto di vista delle statistiche fisiche è una squadra di buona organizzazione tattica è una squadra a due tre giocatori di alto livello anche tecnico è una squadra si sta lottando il campionato punto su punto contro il Salisburgo e il Salisburgo considera una delle grandi squadre europee quindi è inutile guardare al nome guardiamo alla sostanza e questa è una squadra che vale molto di più del nome e porta per buon pomeriggio senta questo è il momento dei grandi complimenti no arrivano da tutte le parti i numeri della squadra sono assolutamente impressionanti è il momento di fare il pompiere e di frenare o è il momento di accelerare ma a me non non me ne importa niente né da accelerare né di frenare io ti dio le mie impressioni o me l'ho detta ragazzi secondo me a Firenze abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tecnico ma non dal punto di vista tanti siamo stati bassi abbiamo concesso tanto e quindi dobbiamo fare di meglio perché quella era una partita che si è messa bene se si mette in un altro modo probabilmente ci può vedere anche in grande difficoltà quindi questo è quello che penso io poi se lo consideri fare il pompiere diciamo facci il pompiere ma a volte ti ho detto ero contento dopo una sconfitta e non è che lo facevo per per tenere il morale alto io ti dico quello che penso buongiorno mister tante partite in pochi giorni che tipo di turnover ci dobbiamo aspettare e come stai messo cose a infortunati volevo sapere in particolare Ciro ha preso tante botte a Firenze le sue condizioni a me la parola turnover sta un po sul cazzo si dice la verità e poi è e questa fissazione italiana vedo le squadre inglese gioa sempre gli stessi 11 e fanno più partite di noi quindi poi è chiaro che nella nostra mentalità nel nostro dispendio di energie mentali e nervose è superiore rispetto a quello che c'è in inghilterra e questo è indubbio la loro abitudine a giocare ogni tre giorni sembra innata e la partita finisce a finire tutto e quindi probabilmente i recuperi a livello mentale sono più veloci questa è una settimana diversa rispetto alla precedente prima abbiamo giocato tre partite in otto giorni ora le gioiamo in sei giorni oggi tiriamo le somme ma neanche oggi perché poi l'unico momento di preparazione della partita sarà domattina e a me preparare le partite in mezz'ora al giorno della partita sinceramente non piace mi sembra di fare un lavoro diverso e che non 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 mi piace assolutamente però siamo stretta a questi per fare un mondiale in catar d'inverno e quindi ci ci adattiamo e vediamo domattina mister buonasera sono qua resto sull'argomento turnover anche se la parola non le piace volevo chiedere se il fatto che tre giorni dopo deve giocare con l'udinese che sarà una partita comunque importante la condizionerà nelle scelte e se la partita con l'udinese è rimasto sorpreso non si è stata messa lunedì visto che poi la settimana successiva è libera che ti devo dire io è difficile anche fare calendari in questo in questo ambaradan senza senso mi metto anche nei panni di fare calendari e penso sia un delirio assoluto calendario è questo magari mi sarebbe piaciuto giocare domenica sera che ti dà quelle due tre ore di riposo durante la domenica pomeriggio in più e sarebbero stai importanti perché quando parli di quanto ci sono 66 ore fra la fine di una partita e l'inizio di un'altra e quando parli di tempio si ristretta è chiaro anche due o tre ore sono sono determinanti però non vediamo dai bisogna avere un'idea chiara dei reuperi dei ragazzi a livello di infortuni non ci sono in questo momento grandissime problematiche però poi al di là degli infortuni c'è il reupero fisico e mentale può avere un giocatore in tempi così ristretti quello te l'ho detto anche l'allenamento di oggi sarà un allenamento in cui sarà difficilissimo valutare perché i ragazzi hanno giocato 40 ore fa e quindi sicuramente l'allenamento non sarà di grande dispendio di energie e di grande impegno dal punto di vista fisico e quindi è anche difficile valutarli in questi contesti salve mister Carlo Roscito la Lazio siamo noi il Corriere dello Sport dopo la partita con lo Sturma all'andata ha detto poche volte in Italia affrontiamo squadre così intense con questo ritmo le chiedo come si allena l'intensità è un discorso settimanale di allenamenti è un discorso di età media della squadra di abitudine a certe partite di gioco magari meno interrotto in Italia quindi per causa degli arbitraggi sicuramente i tempi effettivi nelle partite europee sono leggermente superiori rispetto a tempi effettivi in Italia l'intensità si può allenare in allenamento dando intensità agli allenamenti ma poi bisogna ricordarsi di un aspetto i giocatori hanno la cilindrata è inutile far finta di nulla perché se uno è un 4.000 è un 4.000 se uno è un 2.000 con l'allenamento diciamo se fosse una macchina lo trucchi un attimino ma è un 2.000 di grande prestazione ma non è un 4.000 quindi non è un caso ci sono giocatori che costano 100 milioni e giocatori che costano 2 milioni come le macchine è uguale Alberto Abbate il messaggero mister tempo fa o qualche settimana fa ci aveva detto che Cancellieri sta facendo un doppio percorso che non sapeva insomma facendo un doppio percorso sia da esterno che da attaccante si sarebbe pure potuto fermare a che punto è questo percorso visto che le volte in cui è entrato l'abbiamo visto soltanto come esterno e chiudo poi con una seconda domanda è stata una settimana di grandissima lazialità l'anniversario il centenario di Maestrelli oggi il figlio Massimo ha ribadito anche una sua telefonata dopo la vittoria contro la Fiorentina in questo caso spesso da grandi padri nascono grandi figli come sarebbe avere un personaggio come Massimo Maestrelli dentro la Lazio? ma sai questo non lo so a me come persona piace ogni tanto lo sento e mi fa piacere sentirlo e poi se all'interno della società può essere utile o meno questo non non te lo so dire diciamo che per il momento me lo tengo come amico e mi piace averlo come amico il resto della domanda me la sono scordata Cancellieri mi stai facendo tutte domande su Cancellieri Cancellieri l'anno scorso giocava nell'Ellas Verone ha fatto 214 minuti quest'anno è venuto in una società di livello leggermente superiore già sopra i 200 quindi sta facendo un bel percorso entrato da esterno anche l'altra sera perché la Fiorentina ci sta assaltando e c'erano spazi enormi e lui c'ha gamba per andare ad attaccare questi spazi grazie se siamo rapidissimi facciamo tre domande ma sinteticissime buongiorno mister Andrei Usturi nel Lazio Press l'anno scorso ci aveva detto che Toma Basic poteva essere un giocatore importante per questa squadra cosa manca a Toma per diventare un giocatore importante attualmente? non manca molto, manca un pizzico di personalità e basta la responsabilità se ha giocato meno nell'ultimo periodo è mia perché lui è uno dei giocatori completi che poi la partita ti si mette male pensi sempre al giocatore più offensivo la partita ti si mette bene pensi sempre al giocatore più difensivo in realtà lui invece è un giocatore più completo e io me lo sono dimenticato un po' anch'ina troppo spesso salve mister Daniele Rocca il tempo io le volevo chiedere di Milinkovic una valutazione sulla sua stagione fino adesso mi sembra sempre che si parli troppo poco di questo calciatore 7 assist il migliore in Serie A anche a livello europeo è sempre uno dei migliori per dati non ha la sensazione che su Milinkovic ci sia un po' troppo silenzio a livello italiano? no a me mi sembra se ne parla anche troppo perché dopo una partita vinta tra zero leggo un giornale in prima pagina a scrivere in mercato su Milinkovic quindi pensa quanto può essere se ondo la mia opinione distorta la stampa sportiva italiana negli ultimi giorni c'è stata un'impresa sportiva straordinaria che è quella di Filippo Ganna che ha fatto quasi 57 all'ora nel Reordellora per avere notizia a me tocca andare su siti ultra specializzati quindi pensanto può si parla di sport vero e quanto di gossip a livello di stampa sportiva Milinkovic ha dei dati straordinari e dei dati in cui deve migliorare se va a vedere le palle perse a fine partita è un dato in cui lui deve migliorare nettamente grandissimo giocatore grandissimo centrompista che con le margine ancora di crescere Salve mister sarò breve volevo chiederle se si aspettava in così poco tempo questi grandi progressi in questa sua stagione in questa sua seconda stagione da parte della difesa e a tal proposito come sta Casale che è appena rientrato e se è già pronto magari per scendere in campo o deve ancora riprendersi dallo stiramento no Casale è guarito dal punto di vista medio è guarito poi è chiaro si è fermato per 10-12 giorni in allenamento e quindi si sta cercando di riportarlo velocemente a livello non di guarigione media ma di competitività penso che sia vicino e quindi nelle prossime partite sarà preso sicuramente in considerazione dal punto di vista difensivo non penso che passi in avanti gli ha fatti solamente la linea penso che sia tutta la squadra che protegge un attimino di più la linea difensiva rispetto alla stagione precedente però nel periodo di tempo che stiamo valutando è ancora corto secondo me non è ancora fortemente attendibile ringraziamo il mister Zari andiamo a prepararsi e restiamo con Roma ciao hanno messo stritti oggi allora iniziamo con la conferenza stampa del giocatore che oggi come avete visto è Toma Basic e iniziamo sempre con le domande di Lazio Style Channel Toma benvenuto sarà una grande occasione per voi giocare l'Europa ha sempre un fascino particolare e per te rievoca anche un ricordo un bel ricordo visto che il primo gol con la Lazio lo hai proprio siglato in Europa e proprio all'Olimpico sì Europa pure per giocatori che non giocano tanto è un'opportunità per loro quindi sì ho fatto un gol in Europa l'anno scorso vediamo vediamo domani se giocherò non so però sono pronto sono pronto per sfruttarla ciao Toma la faccia del bravo ragazzo che nel mondo del calcio non è che aiuti tanto però gli hai avuto vicino un allenatore che un attimo fatto ha detto ed è Sarri insomma non proprio uno qualsiasi colpa mia se gioca poco perché me lo sono dimenticato troppo spesso in panchina non è mai bello giocare poco però ti domando avere un attestato di stima così dal tuo allenatore come ti fa sentire? Sì io penso che questa stagione è iniziata bene è iniziata bene però poi poi le cose sono cambiate rapidamente ma così calcio è così le cose cambiano velocemente e spero che sarà bene per me che io posso posso dimostrare posso mostrare tanto in questa Lazio io aspetto il mio momento quindi io so che cambierà io so che cambierà questo momento è un momento difficile è difficile per me ma come ho detto questo è calcio le cose cambiano veloce ciao buonasera Stefano Cerica Z lo sport io ti volevo chiedere qualcosa sulla partita di domani e in generale sul girone di Europa League siete tutte a quattro punti dopo tre partite come vedi questo questo girone pensi che le prossime due quella di domani e quella successiva che l'avete in casa possono essere quelle decisive per voi? sì penso domani una partita difficile una squadra con un buon livello squadra aggressiva corrono molto quindi sappiamo sappiamo cosa dobbiamo fare stiamo pronti sì è vero che giochiamo ogni tre quattro giorni ma è solo mentalmente aspetto mentalmente quindi siamo pronti e spero che vinceremo Carlo Roscito il Corriere dello Sport alla Lazio siamo noi come stai a livello di testa di umore perché ci sono tanti calciatori che sono arrivati alla Lazio che hanno faticato e tanto il primo anno a volte anche il secondo come Luis Alberto Felipe Anderson Patrick alcuni che adesso sono protagonisti assoluti della squadra ecco ti chiedo se vedi il tuo futuro alla Lazio a lungo termine quindi se pensi poi col tempo di diventare un giocatore importantissimo come quelli che ho appena nominato sì in testa questo che è successo adesso in questo momento era simile in Bordeaux quindi pure in Haiduc Split prima io ho visto che c'era scritto nel giornale però però penso che il mio non penso io so che il mio futuro è nella Lazio quindi non mi interessa cosa è nel giornale il mio futuro è nella Lazio l'ultima domanda credo ciao Toma Daniele Rocca il tempo ti volevo chiedere quando sei arrivato non c'era così tanta concorrenza per il tuo ruolo adesso Luis Alberto Vesino ti chiedo però che cosa ha Toma Basic in più dei calciatori che stanno giocando di più quindi più di Vesino e più di Luis Alberto in che cosa secondo te puoi aiutare di più la squadra grazie io posso aiutare da tutti gli aspetti tutti gli aspetti difensivo offensivo quindi solo questo tutti gli aspetti come ha detto mister manca solo un po' di personalità quindi devo lavorare su questo di essere di avere personalità è importante da essere pronto pronto da come in condizioni come si dice sì condizioni per correre per tutto per tutto eppure in test buon pomeriggio Toma Alessandro Vittori Football Magazine la Lazio Siamo Noi punto it vado sulla partita la settimana scorsa il mister dopo la partita in Austria disse che comunque lo Sturman era stato bravo a sporcare la Lazio non aveva fatto un'ottima partita dal punto di vista tecnico come te l'aspetti la partita di domani sera grazie quella partita la settimana scorsa la settimana scorsa era difficile il campo era un po' piccolo e questo pallone non è facile è un po' diverso è diverso quindi tutti questi aspetti cambiano cambiano quando è il nostro gioco quindi spero domani domani giochiamo sul nostro campo e qui siamo siamo forti quindi penso che vinceremo ciao Valerio Marcangelo il messaggero e cittaceleste.it io volevo chiederti dopo un ottimo precampionato dove sei stato tra i migliori ti aspettavi di trovare così poco spazio anche meno rispetto alla scorsa stagione e sostanzialmente ecco più che altro come ti senti in questo periodo perché nonostante stai giocando poco c'è un grande ambiente intorno a voi e grande entusiasmo sì era un buon come avete detto pre-season precampionato sì io speravo di giocare di più certo ma come ho detto prima questo calcio le cose cambiano veloce cosa posso dire sto ancora pensando che è successo però va bene va bene ho detto che era così simile in Bordeaux pure Heidwick Split quindi ma io sono tranquillo perché il mio futuro è nella Lazio e voglio lavorare qua molto quindi penso che sarà bene sto tranquillo tranquillo lo so che in questo momento giochiamo un ottimo calcio quindi spero che continueremo così secondo me tu hai una cosa in più rispetto ai tuoi concorrenti cioè hai un grandissimo tiro in porta violento preciso potente Sarri ti chiede di provarci di più cioè di usarlo di più questo tiro perché il tuo tiro anche in Serie A non è una cosa proprio normalissima è una cosa molto rara poi sei stato sfortunato col Sassuolo sei stato sfortunato con quel palo che era il vero non mi ricordo più la partita esatto è un'arma importante per te cioè devi provarci di più Sarri te lo chiede questo? sì non solo Sarri tutti tutti i giocatori tutti 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 sì quindi questo pure questo è un aspetto di personalità quindi devo lavorare su questo ok ok Grazie a tutti.